Andiamo a introdurre il nostro ospite di oggi e chiedo alla consigliera buongiorno, buongiorno alla consigliera Raffaella Sensoli di avvicinarsi, buongiorno e bentornata, è da un po' che non la vediamo e io per introdurre questa sua presenza in studio intanto ricordiamo che lei è un esponente del Movimento 5 Stelle, poi le chiederemo quali sono le commissioni in cui lei lavora ma io faccio vedere qui una bella foto con ospite diciamo. Sì, sì, il mio piccolino. È una novità che abbiamo portato in aula, nel senso che fino ad ora non era mai capitato che una consigliera entrasse con il proprio piccolo in aula, è voluto essere un segnale soprattutto per le pari opportunità per invogliare anche le donne a partecipare maggiormente alla vita politica e cercare di dimostrare che con un po' di sacrificio e un po' di fatica però si riesce a fare tutto insomma. Lei è una neomamma, è tornata naturalmente in attività anche se ha il piccolino e quindi ha chiesto di fare una verifica sul regolamento per vedere se è possibile portare il bimbo in aula. Ci sarà questa modifica del regolamento? Lei intanto lo porta perché non ci sono state ovviamente obiezioni rispetto a questa iniziativa ma il regolamento verrà cambiato? Avete chiesto anche un'altra modifica? Sì, esatto. Io mi auguro che il regolamento verrà cambiato. Noi abbiamo depositato una proposta di modifica non solo per consentire appunto una partecipazione alle eventuali future consigliere neomamme di partecipare ai lavori assieme ai propri piccoli ma anche di poter partecipare alle commissioni web conference e questo vale non solo per chi come nel mio caso è in allattamento oppure è in gravidanza ma anche ad esempio in caso di infortunio. Nel caso ci fosse un consigliere portatore di disabilità con gli strumenti di oggi secondo noi è possibile partecipare comunque ai lavori anche se per qualche motivo si dovesse partecipare da casa. Quindi spero che l'assemblea accolga positivamente questa nostra proposta. Quindi un'innovazione che la tecnologia consente e quindi potrebbe essere una possibilitazione. Esatto, porterebbe anche dei risparmi per l'assemblea perché ad esempio quando un consigliere si collega da casa qualora si collegasse da casa non riceverebbe ovviamente i rimborsi chilometrici quindi un'ottimizzazione del lavoro e anche qualche risparmio per la regione. E quindi si parla in regione di smart working per i lavoratori c'è questo progetto sperimentale che è stato introdotto e quindi potrebbe esserci anche uno smart working per i consiglieri regionali. Ricordiamo che voi quando arrivate timbrate, vero? Ecco, questo magari le persone non lo sanno immaginano, hanno una visione un po' forse non del tutto corretta con quello che avviene. Voi arrivate da fuori, timbrate il vostro beggio come fanno i dipendenti e rimarcate quando uscite così la vostra presenza viene registrata. Esatto, esatto. La presenza viene registrata ai fini appunto come dicevo delle presenze in commissione e dei rimborsi chilometrici che la regione eroga. Naturalmente, ripeto, nel momento in cui per X motivi che non sono solo quelli legati a una gravidanza o all'allattamento si dovesse partecipare da casa, questi rimborsi non verrebbero erogati naturalmente e quindi la regione potrebbe risparmiare ottimizzando anche il lavoro dei consiglieri che potrebbero rimanere anche sul territorio. Io ad esempio ci metto due ore e mezzo tra andare e tornare da Rimini quindi è tutto tempo che si potrebbe anche dedicare maggiormente ai territori. O anche in questo caso alla famiglia, visto che il bambino è piccolo e chiaramente ha bisogno di cure e bisogna assolutamente garantirle. Allora, consigliera Sensoli, lei è vicepresidente di una commissione. Di che commissione si tratta e di che cosa si sta parlando in questi giorni in commissione? Poi la porto su altri temi. Certo, la quarta commissione che è la commissione sanità. In questi giorni, proprio questa mattina, inizieremo la discussione sul progetto di legge sulla prevenzione, progetto di legge che tutti i gruppi hanno condiviso, si è creato un intergruppo, quindi diciamo che in questo caso è secondo me un esempio di buona politica nel senso che poi quando si vuole si riesce anche ad ottenere un lavoro condiviso. Certo, con a parer nostro alcune lacune, alcune mancanze, ma se deve essere un lavoro condiviso naturalmente si trova un punto di caduta sul quale puoi lavorare anche in seguito. Recentemente, sul progetto sulla prevenzione in salute, in campo sanitario, parleremo poi magari prossimamente quando inizierete ad affrontare nello specifico il tema. non so se lei vuole anticipare qualcosa, ma andrei invece su un provvedimento che è stato recentemente approvato, di cui lei è stata relatrice di maggioranza in aula, in assemblea legislativa la settimana scorsa, che è il piano adolescenti. E qui il titolo che fa il Carlino di Rimini di ieri, da cui abbiamo tratto la notizia, un piano per prevenire, anche qua si parla di prevenzione, ma qua si parla di prevenire il disagio tra i giovani, con 21 milioni. Di che cosa si tratta? Nello specifico di che cosa si occupa il piano? Allora, il piano si occupa del tema adolescenza. Purtroppo, devo dire, entrare nello specifico è difficile, nel senso che il piano stesso, ed è stata la critica che abbiamo posto noi al piano come relazioni, come relatrice, io di minoranza, è un compendio sull'adolescenza, ma di misure specifiche ne abbiamo trovate poche. Si parla tanto di integrazione, ci sono pochi numeri all'interno del piano, ci si rifà al rapporto giovani che è stato inviato dall'assessorato, ma il rapporto giovane, ad esempio, comprende una fascia molto più ampia. Quindi diciamo che le tematiche relative all'adolescenza sono state toccate quasi tutte, ma nessuna in maniera approfondita. Oltretutto, quello che abbiamo tenuto noi a specificare è il fatto che l'adolescenza, sì, al giorno d'oggi comporta delle problematiche, ci sono dei problemi legati agli adolescenti, ma l'adolescenza deve essere vissuta innanzitutto come una fase naturale della vita che va incentivata al meglio, quindi non solo l'adolescenza come periodo problematico, ma l'adolescenza come tratto, periodo normale della vita di ogni ragazzo, e quindi questi ragazzi vanno aiutati a crescere al meglio. Quindi risorse sì per le problematiche, il bullismo, il cyberbullismo, il rischio isolamento che abbiamo oggi, ma anche e soprattutto come opportunità per il futuro. Benissimo, e quindi parlando di opportunità per il futuro, vado a prendere le pagine regionali di oggi, perché si parla molto di questo provvedimento che è stato preso in regione, vado a prendere le pagine giuste, però. Lavoro ai giovani dalla regione, 260 milioni per l'occupazione, questa è la libertà di Piacenza, ma vediamo anche il Corriere di Bologna, da noi investimenti non sussidi, per i giovani ci sono 260 milioni, la regione vuole ridurre un tasso di disoccupazione ancora al 10%, Bonaccini dice guai se l'Emilia si ferma. Il piano è stato presentato ieri, quindi non so se ci sarà una discussione in assemblea legislativa su questo, vediamo che cosa dice il piano, da sapere il nuovo patto per il lavoro rivolto ai giovani da 260 milioni tra risorse regionali ed europee si muove su quattro assi, formazione, orientamento, spazi e diritto allo studio. Il tasso di disoccupazione generale in regione si sta avvicinando al 6%, raggiungendo quindi gli obiettivi che il patto per il lavoro siglato da regioni, associazioni economiche, sindacati, università, si era dato, questo è il dato generale, però è più critica, ci dice, ci ricorda il Corriere di Bologna, la situazione degli under 35, la disoccupazione giovanile infatti ancora in doppia cifra, al 10% e questo è un dato del 2017. Adesso lei non ha ancora avuto modo di leggere questo documento, ma da quello che riesce a vedere è una buona iniziativa, un patto specifico per i giovani. Ma allora, quando si parla di cifre stanziate per i giovani è difficile dire senza avere dati alla mano che sia una manovra negativa, bisognerà vedere come si spendono questi soldi naturalmente, quindi ad oggi chiaramente avendo solo la notizia dalla stampa non posso fare una critica puntuale sulla manovra. Quello che mi viene da pensare è che ultimamente il Presidente Bonaccini ogni giorno sciorina cifre, non vorrei che fossimo entrati già in campagna elettorale e quindi si sfruttano i titoli di giornale per annunciare stanziamenti, poi bisognerà vedere come effettivamente verranno spesi. Benvenga la formazione, c'è tutto un discorso da affrontare sia sul piano formativo che sul piano ad esempio dei centri per l'impiego per quanto riguarda la ricerca di lavoro e il collocamento dei giovani e anche dei meno giovani. Quindi ad oggi posso dire bene, vedremo però come verranno spesi e speriamo che non siano solo annunci da campagna elettorale. Campagna elettorale che comunque prima o poi inizierà perché fra un anno si va a elezioni e quindi i giornali cercano anche di avanzare delle previsioni sulle candidature, su che cosa si profila. Come Movimento 5 Stelle avete già un dibattito interno su questo? Ma per ora ci stiamo concentrando più che altro sulle prossime amministrative e sulle europee. Naturalmente il Movimento 5 Stelle funziona in maniera un po' diversa dagli altri. Noi abbiamo sempre le nostre selezioni fatte online quindi poi suppongo che continuerà a funzionare così i candidati verranno scelti direttamente dagli iscritti al portale perciò dagli iscritti al Movimento. Quindi staremo a vedere. Per ora tutto tace, ci concentriamo intanto sui temi che è quello che ci interessa. Benissimo, sui temi. Lei ha parlato di occupazione e centri per l'impiego quindi appunto i servizi che possono essere dei facilitatori per la ricerca di impiego. Io però su questo vado al tema che è presente su tutte le pagine dei giornali oggi della regione che è il reddito di cittadinanza. Ieri c'è stata una indagine pubblicata sul Sole 24 Ore che dava alcuni numeri, anche la classifica. Ecco vi faccio vedere la pagina del Sole 24 Ore di ieri reddito di cittadinanza con l'Isee, record a Crotone, Napoli e Palermo. Si vede come l'Emilia Romagna si collochi in questa classifica con il 7,4% della popolazione delle famiglie che avrebbero diritto al reddito di cittadinanza rispetto ad altre regioni del sud che chiaramente sappiamo che c'è più povertà al sud hanno percentuali, vado a vedere addirittura la Sardegna il 14,8% delle famiglie che avrebbero diritto contro appunto il 7,4%. Su questo le pagine locali dei giornali sono andate a vedere in ciascuna città come si declinerebbe vediamo qui Emilia a metà classifica regionale dice il Corriere di Bologna meno di 150.000 i possibili destinatari del reddito di cittadinanza quindi ci sono delle proiezioni che vengono fatte in ogni realtà locale qui siamo sul resto del Carlino di Rimini dove si commentano i dati del Sole 24 ore il reddito di cittadinanza solo per 11.000 beneficiari e dice pochi beneficiati solo l'8,1% dei residenti nel capoluogo avrebbe diritto al bonus insomma molti giornali evidenziano proprio queste cifre per il reddito di cittadinanza sono in attesa 12.300 famiglie questo invece è il Corriere di Forlicesena in zona i fruitori potenziali con ISE sotto i 9.300 euro annui sono il 7,2% dei nuclei residenti c'è qualcuno che dice che non sarebbe conveniente il reddito di cittadinanza rispetto ai benefici che già la regione ha introdotto vogliamo fare un commento su questo? Allora innanzitutto sono due manovre diverse innanzitutto una è di caratura nazionale quindi mi verrebbe anche da commentare rispetto alla classifica in cui si posiziona l'Emilia Romagna che grazie a Dio siamo a metà classifica e non siamo tra le prime regioni perché significa che i nostri cittadini stanno meglio rispetto ad altri e mi auguro che francamente gli aventi diritto siano sempre di meno negli anni prossimi vuol dire che comunque i cittadini emiliano-romagnoli staranno meglio rispetto alla manovra regionale ripeto sono due manovre diverse e bisognerà anche vedere come si integreranno tra di loro ancora i decreti attuativi non ci sono quindi bisognerà attendere quelli per poter fare un'analisi completa fatto sta che comunque il reddito di cittadinanza è una manovra è una misura per aiutare i cittadini a reinserirsi nell'ambito laborativo quindi è un commento comunque parziale parlare di cifre erogate singolarmente classifiche perché comunque bisognerà fare l'analisi alla fine di un percorso in cui i cittadini verranno aiutati dal reddito di cittadinanza ma aiutati innanzitutto a ritrovare un proprio percorso lavorativo questo anche tramite esatto la riforma dei centri per l'impiego che ad oggi purtroppo non riescono a fare il loro lavoro adeguatamente che cosa proponete per questa riforma? c'è un tema che è sempre all'ordine del giorno in qualche modo allora i centri per l'impiego devono essere aiutati a lavorare sostanzialmente noi l'abbiamo riscontrato anche qui in Emilia Romagna le risorse purtroppo sono poche gli operatori dei centri per l'impiego sono costretti a lavorare in condizioni assolutamente non ottimali hanno troppi assistiti per ogni operatore quindi non riescono ad aiutare poi le persone che sono in cerca di lavoro nella maniera che meriterebbero alcuni, molti operatori del centro per l'impiego sono precari addirittura vengono pagati coi fondi europei che invece dovrebbero essere utilizzati per il reinserimento lavorativo ad esempio nel Riminese c'è stato un problema anche riguardo la sede del centro per l'impiego addirittura erano stati spostati in una sede non raggiungibile ad esempio dalle persone con disabilità quindi insomma i problemi sono tanti da affrontare sicuramente avere dei centri per l'impiego più efficienti poi può aiutare anche i cittadini e le imprese a trovare insomma un incrocio tra domande e offerta di lavoro perché poi molto spesso le imprese si rivolgono ad operatori privati perché nel centro per l'impiego non trovano il servizio adeguato quindi insomma vedremo come andrà io le sottopongo ancora una interrogazione che lei ha fatto perché adesso ha parlato di disabilità e lei ha fatto una interrogazione affrontando il tema della barriera architettonica sui mezzi pubblici le prendo tutte e due perché sono due interrogazioni di cui le volevo chiedere una questa qui vediamola qua a firma sua e del consigliere Bertani sul trasporto pubblico che cosa chiedete? noi chiediamo innanzitutto che le persone con disabilità riescano a spostarsi spostarsi in maniera serena senza trovare difficoltà come purtroppo oggi avviene ci sono delle fermate poche poche fermate abilitate al trasporto disabili e le segnalazioni che ci sono arrivate sono diverse in questi anni anche studenti ad esempio studenti disabili che non riuscivano a utilizzare il trasporto pubblico per andare a scuola un cittadino l'ultimo nella provincia di Forlice Sena che aveva un problema con la fermata, l'unica fermata che c'era abilitata al trasporto disabili che d'estate praticamente veniva non soppressa però insomma non era accessibile perché proprio nella piazza dove era questa fermata c'era il mercato quindi insomma tutta una serie di disagi che una regione come l'Emilia Romagna non dovrebbe avere quindi sostanzialmente noi chiediamo di agire in questo senso alla regione di far sì che il trasporto pubblico locale sia efficiente soprattutto per le persone più bisognose quindi una sensibilità che va declinata in maniera insomma più puntuale sollecitando le aziende dei trasporti pubblici e locali lei è vicepresidente della commissione sanità e in questa interrogazione fa una richiesta che riguarda il pronto soccorso dove ci sono sempre delle file purtroppo insomma molto lunghe c'è del disagio per chiaramente i pazienti che devono attendere che cosa avete, che cosa proponete in questa interrogazione firmata anche questa con il collega Bertani? Sì, dai due romagnoli, l'altro mio collega romagnolo come me ma anche qui noi parliamo di innovazione, ormai si usano le app per qualsiasi cosa e quindi anche in questo caso noi abbiamo chiesto alla regione di valutare un progetto un progetto molto semplice poi da sviluppare naturalmente dove le persone possano vedere ad esempio i tempi d'attesa nei singoli pronto soccorso è naturale, non per i casi di emergenza, lì c'è il 118 il pronto soccorso deve operare ovviamente soprattutto per le emergenze e le urgenze, è naturale però fin tanto che i pronto soccorso si occuperanno ancora anche dei casi meno urgenti dare la possibilità ai pazienti di verificare dove c'è meno fila questo serve al paziente ma serve anche ovviamente ai pronto soccorso in modo tale che poi i casi si possano distribuire meglio sul territorio i casi ripeto gestibili, è naturale Le faccio solo una domanda che riguarda sempre Rimini perché lei ha fatto un comunicato stampa recentemente sull'aeroporto Ridolfi sull'aeroporto Fellini di Rimini, la cosa si aggancia a questo tema delle infrastrutture e in questo caso degli scali aeroportuali della nostra regione perché è stata siglata, vediamo qui sul Corriere di Romagna che ne dà notizia la convenzione con l'Enac e il Ridolfi, l'aeroporto di Forlì può partire, sono credo tre anni, che era chiuso, no cinque anni dal marzo del 2013 e sono già stati pianificati gli investimenti pensano di potercela fare per il primo aprile come vede questa situazione che devo dire da livello politico è stata salutata da tutti gli esponenti qui vengono citati dei parlamentari di tutte le forze politiche si sono espresse positivamente per questa apertura come la vede lei? Sono necessari due scali così vicini in Emilia Romagna? Ma allora, è un argomento spinoso innanzitutto io auguro buon lavoro alla nuova società e fa piacere che degli imprenditori locali si siano messi in gioco in questo senso, assolutamente avere due aeroporti così vicini sicuramente non è facile è anche vero che abbiamo Bologna che ormai è satura quindi creare una rete tra aeroporti della regione non sarebbe male, noi l'abbiamo sempre proposto riguardo Rimini purtroppo insomma io auguro maggior fortuna a questa società rispetto a quella che sta avendo la società che gestisce lo scalo riminese l'abbiamo sempre criticata ma sostanzialmente perché vogliamo che l'aeroporto di Rimini funzioni è un aeroporto internazionale perché c'è anche San Marino che collabora è un aeroporto importante dal punto di vista turistico per la nostra regione vedere purtroppo negli anni che i numeri che sono stati promessi dalla società di gestione non sono stati rispettati addirittura gli arrivi erano maggiori quando c'era l'amministrazione straordinaria con il fallimento di Eradria chiaramente delude e quello che abbiamo chiesto alla regione se è vero che stanzierà questi 20 milioni per lo scalo riminese che lo faccia però non per aiutare la società a fare quello che aveva detto avrebbe fatto da sola ma per aiutare il territorio riminese a risollevare il turismo che in questo momento non è diciamo nelle condizioni migliori perché si parla tutti gli anni di arrivi ma poi non si parla in maniera approfondita di presenze soprattutto di quale turismo viene attratto cioè di quante risorse rimangono sul territorio riminese perché è importante ovviamente il numero di persone che vengono a Rimini ma anche quante risorse poi quanta ricchezza lasciano al territorio Benissimo su questa osservazione io le chiedo un'ultima battuta sulla libertà di stampa perché chiaramente sulle pagine oggi se ne torna a parlare il presidente Mattarella ha preso una posizione ha fatto molto discutere la dichiarazione piuttosto insomma molto pesante del vice premier Di Maio viva la libertà di stampa ma benvenga la libertà di stampa ma magari ci fosse libertà di stampa perché purtroppo l'Italia è famosa per non essere esattamente ai primi posti in classifica per la libertà di stampa quindi noi la paventiamo è naturale che poi associata alla libertà di stampa c'è tutto il dibattito anche riguardo le risorse pubbliche che vengono date ai giornali e comunque alla stampa ovvio la libertà di stampa non la si fa usando le risorse pubbliche come un ricatto e purtroppo lo si è visto negli anni poi naturale il confine tra una linea editoriale e una stampa diciamo una verità distorta sulla stampa è molto labile chiaramente la libertà ci deve essere ci devono essere delle linee editoriali chiare però questo poi non deve mai sconfinare in una faziosità che porta anche alle cosiddette fake news e tutto il fenomeno che c'è insomma negli ultimi anni sempre più accentuato e quindi insomma vigiliamo sulla libertà di stampa ma tuteliamola questa stampa perché altrimenti se no come si fa a esercitare la libertà in questo senso e io con questo chiudo la nostra puntata di oggi ringrazio la consigliera Raffaella Sensoli e vi do appuntamento a domani sempre in diretta alle nove qui su Lepida TV un caro saluto da Isabella Scandaletti e vi do appuntamento